Si comincia domani sera a Marcianese alle 20.30 nei locali del Biabar con la prima delle assemblee organizzate e promosse dal Movimento per il No la riforma referendaria Lanciano Decide. Un tour di sei appuntamenti in altrettanti quartieri della città con l'obiettivo di spiegare i termini della riforma che vuole il Presidente del Consiglio Renzi e le ragioni del perché bisogna votare no. Convinzione profonda ribadita questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti di Lanciano Decide. Movimento allargato dove al suo interno convivono varie anime provenienze unite da un comune denominatore. Dire no il prossimo 4 dicembre. È un attacco alla democrazia, significa diminuire fortemente la partecipazione degli enti locali e quindi dei cittadini con un accentramento del potere centrale, ha rimarcato Daniele Moretti di Wallowalla. Posizione sottolineata ai nostri microfoni da Marcello Masciotta. Sì, abbiamo deciso di indire diverse assemblee di quartiere che sono uno strumento di democrazia direttissima, quindi rientrare un po' negli spazi e permettere a tutte le persone di venire a conoscere quelle che sono le ragioni del no e la pericolosità di questo referendum. Se passassessi in una cittadina come Lanciano che già è stata distrutta più volte, ci sono stati diversi tentativi di prendere possesso e di rovinare questa magnifica città e quindi abbiamo deciso appunto di usare questo strumento dell'assemblee di quartiere per ribadire quelle che sono le ragioni del no, ma soprattutto per cominciare a usare di pugno, di petto quella che è la democrazia. Angela Di Paolo, coordinatrice del comitato per il no, ha posto l'accento su una serie di incongruenze. Non è una riforma ma una rottamazione ed è importante discutere e confrontarsi sui contenuti. A testimoniare che Lanciano decide, è davvero un gruppo eterogeneo, la presenza questa mattina del vice sindaco Pino Valente, leader di progetto Lanciano, e dell'assessora Francesca Caporale di Sinistra Italiana. Siamo alleati leali del sindaco Pupillo, il quale ha già detto voterà sì, ma l'attività amministrativa è una cosa, questo referendum ci chiama ad altre responsabilità, ha puntualizzato Valente, che da giorni ha ufficializzato la posizione della sua lista civica. Il referendum non fa parte del programma di governo, noi ci siamo candidati per amministrare bene la nostra città e lo stiamo facendo con grande lealtà attorno al sindaco Mario Pupillo. Il referendum è un'altra partita e riguarda tutti i cittadini, per questo come movimento civico che rappresenta un territorio in maniera importante, ci sentiamo di prendere posizione in maniera chiara e netta per il no al referendum perché con questa riforma si vanno a massacrare i territori, quindi noi con il nostro no vogliamo difendere le autonomie locali, vogliamo difendere tutti questi anni di battaglie per il federalismo che invece con un colpo solo verrebbero cancellate. Si ritornerebbe a un centralismo romano che è vecchio, che non ha funzionato, che ha creato danni e che ha allontanato i cittadini dalle istituzioni. Il governo deve capire che i cittadini quando hanno i problemi vengono dagli amministratori locali e gli amministratori locali devono poter dare risposte. Con questa riforma purtroppo la nostra autonomia e la nostra capacità di dare risposte verrebbe fortemente limitata. Chiara anche la scelta di Francesca Caporale. Posizione sia quella di amministratore che vuole tutelare il proprio territorio ma anche quello di componente di un partito come quello di Sinistra Italiana che si è schierato a livello nazionale per il no a questo referendum, non come un no al governo attuale ma come un no a quella che è una riforma che vuole stravolgere la Costituzione. Noi non pensiamo che la Costituzione debba essere questa e quindi intoccabile ma l'attuale riforma è una riforma che va a stravolgerla. Pensiamo che prima di tutto bisogna attuare ciò che sono sia i principi iniziali che quelli successivi, quindi le modifiche del secondo atto della Costituzione, ma andare a modificarla non togliendo potere e dignità ai territori ma cercando di rendere migliore la nazione in cui oggi viviamo, quindi l'Italia. Questa mattina all'incontro con i giornalisti anche il professore Alberto Labarba, ex consigliere comunale ed ex assessore regionale, di Sinistra da sempre. Il suo impegno politico è noto anche se appare di rado ma evidentemente il referendum è questione troppo importante per starsene a casa. Certo, è una battaglia molto importante. La nostra Costituzione, quella che abbiamo, è stata costruita attraverso lacrime e sangue da uno schieramento che era unitario, che escludeva soltanto i fascisti. Questa che stiamo per discutere, sperando di non approvare, è una modifica alla Costituzione che è stata approvata con un voto di fiducia. E mentre la nostra Costituzione era tutta incentrata sull'obiettivo di dare spazio, di dare voce ai cittadini, agli elettori, attraverso la rappresentanza del Parlamento, questa è incentrata sul fatto di togliere una parte di voce agli elettori, perché i senatori e i deputati vengono nominati e non più eletti e quindi si tratta di un notevole passo indietro, nonostante quello che vogliono far credere attraverso una specie di specchietto delle allodole, che sarebbe quello della riduzione dei costi della politica, eccetera, eccetera. Una cosa soltanto. Oggi il Senato costa 500 milioni, con queste modifiche si risparmierebbero 50 milioni. Oggi costa 500 milioni per 300 senatori, costerebbe 450 milioni per 100 senatori. Questo è il risparmio che vogliono fare. Grazie. Grazie.